Benvenuti alla rassegna stampa di martedì 2 febbraio 2021. Cari telespettatori di FanoTV, questa è Occhio ai giornali. Cominciamo come di consueto con Il Santo. Oggi la Chiesa ricorda la presentazione di Gesù al Tempio con Maria e Giuseppe che adempiano dunque la legge mosaica e questa è la memoria di oggi. Il sole sorgerà alle 7.27 e tramonterà alle 17.16. Allora, guardiamo questa immagine, questa fotografia, questa animazione dal bollettino della protezione civile delle Marche e moltiplichiamola fino a domenica più o meno. Questa è la situazione ed è una fotocopia che ci accompagnerà appunto per i prossimi giorni. Avremo un cielo sereno, poco nuvoloso, anzi senza precipitazioni anche domani insomma non ce ne saranno. Quindi insomma possiamo dire che il tempo sarà così, niente di che. Allora andiamo a vedere adesso invece i giornali e cominciamo dal resto del Carlino di Pesaro. Il resto del Carlino di Pesaro in apertura, la fotonotizia, è per l'odissea di un benzinaio, un benzinaio fanese a cui hanno rubato l'automobile e i ladri quando purtroppo prendono e fanno queste cose i ladri poi hanno fatto di tutto e di più con la macchina di questa persona. Quindi adesso questa persona chiaramente si trova un po' in difficoltà. e lo racconta a pagina 9, questa odissea, la racconta il Carlino di oggi. Intanto sui tamponi, tamponi dal medico in farmacia, il consigliere Biancani chiede alla regione di mettere i fondi per lo screening. Oggi c'è un altro turno poi nelle scuole di Pesaro. All'ospedale Marche Nord il reparto di oncologia torna alla normalità, trasferiti i pazienti e poi sul plasma iperimmune trovare i donatori è una impresa. E ieri c'è stata la prima giornata di apertura, anzi di riaperture per ristorante e bar. La gente c'è, ora dateci garanzie per il futuro. Mentre nel quartiere di Pantano, sempre a Pesaro, le iniezioni agli alberi per combattere la processionaria. Il fronte della cultura, i musei tornano ad animarsi e arrivano le prime prenotazioni. E poi Sgarbi all'attacco, il legittimo, lo stato di emergenza. Sgarbi è uno di quelli che non ci sta, è prosindaco di Urbino. Vedremo nelle pagine interne il perché di questa dichiarazione. Anche se poi per Sgarbi, chi lo segue sui social, è un po' un disco rotto. Cuccioli di pochi mesi trovati in autostrada, affidati al canile, multato all'autista. Mentre due ragazzi che hanno meno di 20 anni, under 20, arrestati dalla polizia, spacciatori in erba, nella mini avevano due chili di droga. Il Corriere Adriatico, sempre l'edizione di Pesaro, tutti a tavola, il sorriso è servito. La riapertura di ristoranti, locali e bar porta a una ventata di ottimismo fra gestori e clienti. Fioccano le prenotazioni per il fine settimana di San Valentino, considerato il vero banco di prova. Ma se da una parte c'è l'apertura, c'è il sorriso, c'è una parvenza di normalità, dall'altra c'è l'invito del prefetto di Pesaro Urbino, Vittorio Lapolla, che lancia un appello a evitare assembramenti e i controlli che saranno ovviamente da rafforzare. Sulla pagina principale, sempre del Corriere, la Regione Marche, che a proposito di mascherine, ha fatto un affare. Le mascherine le ha pagate la metà e c'è chi fa meglio di Arcuri, Arcuri il commissario nazionale. La Regione Marche ha la ribalta per una best practice, cioè la migliore pratica. È stata Milena Gabbanelli, la regina del giornalismo d'inchiesta, a dare la notizia. A ottobre le Marche hanno acquistato mascherine FFP2 a meno della metà del prezzo di quello contrattato dal commissario per l'emergenza Arcuri. Merito del SUAM, lo sportello unico aggregatore della Regione Marche. Sanità, due primari dell'area vasta ancora congelati, poi sempre da Pesero sia allo screening per il personale di nidi e materne, poi attesi in 3.000 al concorsone per i sociosanitari. Studenti presi con la droga avevano fatto una colletta, convalidato l'arresto di due ragazzi di 18-19 anni, mentre sul fronte calcistico vis rinforzata con Bertinato, Garissoni e Germinale. Contagi ancora in calo, meno sintomatici, ma serve prudenza, dice il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, che lancia un appello, il trend è confermato, mi raccomando, dice lui, cautela. Nel prossimo report i parametri delle Marche in ulteriore miglioramento, giù i ricoveri in terapia intensiva e in area medica, ma sono ancora troppi. La percentuale dei positivi sulle persone testate è scesa dal 24,8 al 23,7. 1.000 morti. La seconda ondata è peggiore della prima, fatto molte più vittime della prima. Il totale dei decessi è salito a 1.986, aumenta l'età media di 82 anni, mentre sulle quarantene il bollettino in frenata accertati 189 nuovi casi di infezione, ancora niente effetto o scuola, di quello magari bisognerà ancora aspettare qualche giorno. Intanto i 7.000 vaccini per i non sanitari e gente, dice Saltamartini, che lavora comunque in ospedale, parliamo di tecnici, portieri, igienisti, operatori. Ecco chi ha ricevuto il siero fuori dalla lista dei medici e degli infermieri. Saltamartini dice chi sono, si tratta di dati sensibili gestiti dai dirigenti, ci sono state anche ispezioni del NAS, dei carabinieri. Il dato balza all'occhio rispetto ai 27.000 sanitari e 2.600 ospiti nelle RSA. segnalazioni da Ascoli e da Pesaro, l'assessore però dice abbiamo controllato. Sul plasma iperimmune, il plasma com'è difficile trovare i donatori, il sangue iperimmune è una speranza di cura, ma la percentuale dei guariti da cui ricavarlo è basso. Parla il direttore del centro trasfusionale dell'ospedale Marche Nord, Carlo Pazzaglia, che dice continuiamo a raccogliere il plasma e a conservarlo, sia perché la nostra osservazione degli effetti sui malati è molto positiva, sia per non farci trovare impreparati quando arriveranno evidenze scientifiche inequivocabili. Quindi vi comportate, dice Simona Spagnoli, chiede Simona Spagnoli questa mattina, e la risposta dice abbiamo cominciato il 13 maggio, il giorno dopo il via libera del Comitato Etico Regionale, la mattina successiva al trasfusionale abbiamo convocato il primo donatore. Quanto plasma avete raccolto finora? Il dato è buono, circa 500 sacche da 200 millilitri ciascuna, in maggioranza prevalente, prelevate, scusate, da persone guarite, dimesse da Marche Nord, anche se qualche donatore è arrivato anche dall'urbinate. Insomma, il sistema, come dicevamo, funziona, è un sistema di mutuo aiuto, poco meno del 50% delle sacche raccolte e distribuito negli altri ospedali regionali. La lista è dei 50, ma tra tutti questi solo tre avevano un titolo anticorpale adeguato. E noi a Fano ne abbiamo uno che ogni tanto finisce anche nel nostro telegiornale. Quel ristoratore, lo ricorderete, Marinelli, che addirittura è arrivato alla quinta donazione di plasma iperimmune. Si vede che, insomma, da questo punto di vista è un record. Mascherine comprate a prezzi convenienti. Quelle acquistate dal nostro ospedale costavano un terzo di quelle ordinate dal commissario Arcuri. È un risparmio che porta la firma di Marche Nord. E poi ci sono anche i saturimetri, quelli che servono, che si mettono dove si mette l'indice del dito per misurare l'ossigeno nel sangue. I saturimetri a buon mercato in provincia di Peso Urbino, 40 farmacie, sono pronte a vendere questi dispositivi ad un prezzo, insomma, calmierato. Un prezzo decente. Le best practice, la miglior pratica, la miglior della regione Marche, per acquistare queste mascherine pagate la metà rispetto al commissario Arcuri. Un risparmio, tra l'altro, eclatante di questo sportello, di questo SUAM, è il caso Marche Nord. Un team dedicato a questo. Il Partito Democratico lancia un appello. Lezioni in presenza, lo screening sia continuo. Richiesta di misure urgenti per studenti ed insegnanti. Mentre sulla pagina 6 del Corriere Adriatico, Acquaroli, punta all'estate, l'estate marchigiana. Un'agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione. Il segretario Becchetti, il capo servizio Orsetti, in regione, stanno lavorando al nuovo progetto. Il rampa di lancio ha anche una legge per fare nei borghi degli alberghi cosiddetti diffusi. Dunque si parla di tre mesi, qualcosa in più, qualcosa in meno. È il termine che il governatore Acquaroli ha dato al suo staff per mettere in cantiere l'architrave normativo che faccia da struttura portante per questa nuova agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione della regione Marche. Acquaroli, che ha tra le sue deleghe appunto ha tenuto proprio il turismo, è fortemente determinato a condurre fino in fondo il progetto che tiene il filo del suo programma elettorale valorizzando in pieno il serbatoio incredibile che le Marche nel tempo hanno saputo costruire ma forse solo in parte mettere poi in vetrina. Si creerà dunque un ente capace di collegare tutti i tipi di turismo. E qui c'è un riquadro, uno schema che il Corriere Adriatico propone con alcune illustrazioni che servono appunto per capire quali saranno gli obiettivi 1 e 2 e quali sono le prassi per arrivare a questo risultato. Intanto sugli assembramenti, sui nostri comportamenti c'è un intervento del prefetto di Pesero Urbino, Vittorio Lapolla, che dice che la battaglia è ancora lunga, la battaglia contro questo virus e siamo tutti chiamati a collaborare. L'invito a evitare il rischio di assembramenti in zona gialla, controlli rafforzati e per le multe non pagate stanno arrivando 370 ingiunzioni. Quindi se siete tra quelli che sono stati fermati, che hanno ricevuto quindi il verbale di multe, eccetera, eccetera, insomma sappiate che adesso arriveranno queste ingiunzioni di pagamento e quando arrivano queste, insomma, c'è poco da fare, bisogna pagare, punto, e basta. Vallefoglia, crisi Covid, aiutate 785 famiglie, impressionante il numero dei beneficiari del buono spesa nell'ultimo anno, stanziati 212 mila euro, domenica avvenuta l'ultima consegna in sicurezza, intanto a gennaio si sono dimezzati i contagiati. Sulla gestione delle risorse idriche a Urbino, uniti per ridurre le perdite. Politecnica e Uniurb lavoreranno insieme a Marche Multiservizi e a Central Tubi. Mentre a Fano si discute su che cosa fare di quell'area dove un tempo c'era il distributore dell'Agip, vicino a Viale Gramsci, vicino dove c'erano i vecchi capannoni dei carri di Carrevale. La fotografia che pubblica il Corriere forse aiuterà anche coloro che magari non hanno ancora individuato l'area, anche se poco indicativa, ma insomma vedete c'è molto spazio in quest'area che è completamente dissestata dove appunto una volta c'era il distributore dell'Agip. Che cosa fare di quest'area? Se ne discute ancora a Fano, un parcheggio è una delle ipotesi, ma no alla richiesta del commercio, l'assessore Tonelli rompe gli indugi e parla di un progetto innovativo che resta ancora però un mistero. Quindi non dovrebbe esserci un parcheggio, non dovrebbe realizzare il Comune un parcheggio, ma appunto qualcosa di innovativo che però ancora non si sa. È un mistero, ma di sicuro, almeno dice così l'assessore Tonelli, non si farà un parcheggio per il centro storico. Entro l'anno la bonifica del sito, ma l'intervento per il momento è stato prorogato al 2022 e dunque bisognerà adesso sperare in qualche parolina in più dell'assessore che ci possa dire, svelare questo mistero. Intanto davanti ai bagni Carlo, sempre a Fano, arrivano alle scogliere, si concluderà finalmente questo tratto, ormai mancava solo quel pezzettino lì. Allora le scogliere davanti ai bagni Carlo, i lavori sono ripartiti, in azione il motopontone, poi arriverà dalla Croazia la nave con i nuovi massi che serviranno appunto per formare questa scogliere, mettere in sicurezza tutta la costa. Sulla pagina di Fano invece del Carlino, bonus edilizia, boom di accesso agli atti, settore in fermento grazie agli incentivi, l'assessore al momento una decina di casi concreti, ma ci aspettiamo una valanga di pratiche. Poi il resto del Carlino ricorda, sempre nella pagina di Fano, un appuntamento che andrà in onda questa sera alle 20.50 qui sulla nostra emittente, su Fano TV, l'uomo delle Proloco, Damiano Bartocetti, si racconta stasera in TV. Sarà il presidente dell'Unione Proloco, Peso Urbino, il protagonista della puntata di oggi alle 20.50 di Fano TV, su Fano TV, di Guarda Chi C'è, intervistato da Paolo Notari. E questo sempre dalla pagina del Carlino. Mentre sull'ex Carducci, provincia a tu per tu con i progettisti, un incontro con lo studio che ha vinto il bando delle idee. Questa è l'ex scuola Carducci a Fano, che verrà demolito e ricostruito. Ecco, la storia invece di questo, che trova lo spazio in prima pagina, la storia di questo uomo al quale hanno rubato una macchina, i ladri, e adesso è condannato a pagare le multe di questo ladro. La storia è di Denis Traiani, derubato dalla sua vettura e poi utilizzata da un branco per scorazzare in Romagna, violando tutti i limiti di velocità. Lo racconta questa storia Roberto Damiani, sulle colonne del giornale appunto. Gli hanno rubato la macchina, scrive, sfrecciando nella notte tra Rimini, Riccione e Pesero, ora un giudice gli impone di pagare quattro multe per eccesso di velocità, anche se a guidare era appunto il ladro. Per una somma di quasi 900 euro. Il giudice di pace di Rimini, Baldoin, ha stabilito questo. Il proprietario della macchina è solidale nel ripagare i guai provocati dal ladro della vettura, a meno che dimostri aver fatto di tutto per non farsela rubare. Mentre, sì, perché il principio, lo ribadiamo, perché è curiosa questa cosa, il principio del giudice è questo. Se la macchina non è ben protetta, tutto quello che può farci un malvivente può ricadere in solido anche sul proprietario. Come dire, non potete lamentarvi se poi lasciate, per dire, le chiavi lì sul cruscotto, oppure non potete lamentare se la lasciate aperta, oppure lasciate la borsa della vostra moglie in bella vista, o il cellulare in bella vista. Cioè, tutta una serie di considerazioni dei quali si potrebbe discutere. Quindi bisogna fare di tutto per metterla in sicurezza affinché il ladro non rubi la macchina, altrimenti poi sono affari nostri. Allora, sulla pagina di Fano, invece, del Corriere Adriatico, c'è questa notizia che riguarda il nuovo bando per due dirigenti, ma i contratti sono a tempo. lavori pubblici e turismo, prova scritta orale, il termine fissato il 22 di febbraio. Mentre la consulta per gli animali ha redatto un regolamento, Mascherin dice l'assessore abbiamo istituzionalizzato la lunga collaborazione con i volontari. Qui vedete Mascherin con il sindaco Seri nell'oasi faunistica del canale Albani. Pista ciclabile dell'Arzilla può attendere come il percorso protetto Paleotta Mare in un video postato sui social la rabbia dei residenti verso un progetto già vecchio di 5 anni. Poi Nuova Fano interviene invece sulle strade pericolose in centro. Basta ignorare ora servono interventi. Questo alla luce dell'incidente mortale che è avvenuto in Viale Gramsci che ha messo ancora una volta in evidenza come queste vie del centro storico soprattutto quelle principali anche molto trafficate sono ormai diventate molto pericolose. Si parla invece anche sempre sulla pagina di Fano del Corriere della pillola abortiva area di mobilitazione contro la regione. Luzzi porta la questione in consiglio ma si muove anche la società civile. Ateneo aperto incontri digitali si sono già prenotati in 2150. Da domani l'offerta formativa si presenta online Artieri e Matteucci parlano di opportunità. Sport nei parchi sempre a Urbino per le associazioni o società dilettanti adottando un'area il Comune ha avviato il bando ecco come si può partecipare per ottenere appunto questa quest'area. Vedo che insomma anche a Urbino tutti si stanno mobilitando per questa pillola abortiva RU486 il centro-destra cerca consensi sul corpo della donna il PD attacca la giunta regionale quindi vedete da Fano da Urbino tutti a favore di questo grande diritto che è quello di uccidere all'interno del corpo di una donna una nuova vita con il loro no all'utilizzo si torna indietro di 50 anni pensate voi di cosa si parla ancora di questa pillola abortiva che fa miracoli io non ho ancora incontrato una donna che è contenta di aver ucciso il proprio figlio dentro la pancia con una pillola abortiva me la presentate per favore sono qua disponibile me la presentate e ci voglio parlare poi ve la presento anch'io una donna che è felice di aver fatto un'operazione di questo genere allora da Urbino una insurrezione contro i divieti questa è la pagina del resto del cardino qui c'è Vittorio Sgarbi che è con l'attore Carlo Simoni con il sindaco Maurizio Gambini e qua a destra invece con il maestro Bruno Cerboni Baiardi ora domenica intensa di incontri per il prosindaco appunto Vittorio Sgarbi che dice farà un ricorso alla corte costituzionale contro lo stato d'emergenza poi sotto a Pieve di Cagna i contagi diminuiscono parla uno dei medici di base continua a visitare gli anziani non sono colpevolista ma non tutti seguono le regole dalla Val Metauro ospedale azzoppato e disservizi la minoranza diffida l'area vasta la chiusura del laboratorio l'ultimo affronto quattro consiglieri pronti a occupare la struttura come nel 2013 poi a Cartoceto a Lucrezia lo stadio Amati a un passo dalla rinascita in via di conclusione l'intervento di recupero dei campi da calcio area vasta siamo sulla pagina della Valle del Cesano due primari in stand by nella sanità non è cambiato nulla le storie di Sossai e Gammarota il segretario Ampo lancia l'allarme a Pergola più che ospedale è una RSA ancora sotto da Frontone Cinisco riqualificazione dell'area camper e del fiume circa 20.000 euro della regione per il progetto di Frontone poi la cronaca ancora dal Carlino sequestrate due chili e mezzo di droga tre arresti prima la volante di polizia blocca due fanesi con la marijuana poi la squadra mobile ferma un nigeriano con 22 ovuli di eroina pensate dentro la pancia lo straniero è stato portato in ospedale per il recupero dello stupefacente e poi sulle multe anti-covid nessuno paga pronte a partire 370 ingiunzioni la prefettura annuncia chiusure da 5 a 30 giorni dei locali ribelli dunque stanno per arrivare chiusure importanti da 5 a 30 giorni per le attività che non hanno rispettato le regole anticontagio lo annuncia la prefettura sono stati fatti tanti controlli 873 contestando 14 verbali per la violazione appunto delle norme anticontagio poi c'è una notizia che qui vale la pena un attimo approfondire andiamo sulla cronaca di Ancona perché è una notizia della quale ha parlato l'Italia intera ricorderete di una ragazza di 21 anni di Foligno che adesso è ricoverata in condizioni molto gravi al torrette di Ancona per aver mangiato il sushi adesso si spera in un trapianto soprattutto per salvarla la giovane è in terapia è in rianimazione anzi i tempi per intervenire sono molto stretti questione di pochissimi giorni due o tre giorni al massimo dicono dall'ospedale di Ancona per l'impianto del nuovo fegato i sanitari del reparto di anestesia stanno seguendo anche l'altro percorso non solo quello del trapianto ovvero attraverso le terapie di supporto con l'obiettivo di non dover arrivare al trapianto di organo sperando soprattutto in che cosa nel fatto che questa è una ragazzina una giovane età ha 20 anni e che il fegato in qualche modo che adesso è sotto attacco per questa intossicazione alimentare da sushi possa recuperare a livello clinico è un'opzione che capita raramente da qui la scelta di attivare la richiesta di un trapianto urgente cioè è difficile in questi casi che nonostante sia giovane il fegato si possa curare tra virgolette da solo auto rigenerandosi purtroppo la situazione è questa è una notizia che troverete sul Carlino però di Ancona questo lo dico perché se andate in edicola quelli di Pesero non lo trovate nello zaino la droga per gli amici acquistata grazie ad una colletta convalidato l'arresto ai due studenti dell'ultimo anno entrambi potranno frequentare la scuola hanno trovato oltre due chili di marijuana in uno zaino ma subito dopo il passaggio di consegne ai due studenti uno di 18 e l'altro di 19 dell'ultima classe delle superiori sono stati arrestati ai piedi dell'ardizio sulla Flaminia siamo sempre a Pesero anche qui poi la notizia di questo immigrato che poi è stato portato all'ospedale perché ha ingerito 22 ovuli di eroina per 50 euro pensate alla disperazione al di là dei titoli al di là di tutto pensate alla disperazione di queste povere persone perché poi di fatto sono corrieri che non sanno più che cosa inventarsi per portare questa roba e spacciarla e guadagnarci qualcosa perché chiaramente lo scopo è quello pini vaccinati contro le processionarie partite la campagna Aspes iniezioni vitaminiche e quasi 2000 alberi per debellare l'insetto infestante che tra l'altro è anche molto pericoloso soprattutto per le processionarie e per gli animali in passato si bruciava il nido con risultati però incerti ora invece siamo sicuri dunque come avete capito con questa con queste iniezioni che si fanno agli alberi che sono state fatte anche ieri mattina dagli addetti a due pini nel quartiere di Pantano a Pesero appunto pare che insomma con queste iniezioni di vitamine si possa debellare questo insetto che è anche molto pericoloso Addio a Giuliana Bontempi atleta e attrice amatoriale negli anni 50 recitò nella piccola ribalta con Glauco Mari e Ernaldo Ninchi agli esordi sabato scorso aveva 84 anni e deceduta Giuliana Lulli Bontempi che era nata a Zara dai genitori pesaresi il funerale si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Cristo Re alle 15 di oggi pomeriggio ancora un lutto impiegata deceduta dopo una breve malattia Alessandra Pazzaglia aveva 54 anni lavorava all'iperconad lascia una figlia di 17 di 17 anni questo è l'articolo che troverete sul resto del Carlino e poi ancora andare a caccia è sempre meno pericoloso una notizia che farà sicuramente contenti gli animalisti andare a caccia è sempre meno pericoloso le statistiche sono dell'Università di Urbino che confermano la tendenza si rischia di più la vita in attività balneari o alpinistiche e su questo potremmo discutere a lungo poi Parco del Catere del Nerone Alpe il comitato si rifà di nuovo avanti il recente assalto alla vetta dei monti da parte dei turisti secondo molti deve far riflettere sul fenomeno bisognerà pensare anche a fare sentieri e luoghi a numero chiuso quindi per evitare l'assalto da Senigallia velocemente servizi ridotti e poco personale ora basta i sindacati in campo per la situazione dell'ospedale medici di altri reparti pronti a dare una mano al pronto soccorso ma mai chiamati poi il lutto muore a 37 anni addio a Simone Solazzi è il figlio di Umberto responsabile del Tribunale del Malato lascia la compagna e il figlio Samuele ha combattuto contro una malattia poi in spiaggia arriva l'orto marittimo via libera all'idea di Chef Cedroni un luogo dove un luogo della riflessione e anche della memoria vicino alla statua della madonnina del pescatore covid presidiate le fermate bus per gli studenti a Senigallia è sempre alta l'attenzione dopo il rientro in classe delle superiori chiudiamo qui la nostra segna stampa vi ricordo un nuovo programma in onda su Fano TV e qui abbiamo anche un cartello i dolci di carnevale che partirà da giovedì 4 febbraio alle ore 21 sul canale 17 appunto di Fano TV dopo il telegiornale è un bel programma che vi invito a seguire dura poco ma è molto interessante dopo il telegiornale a partire da dopo domani da giovedì grazie per averci seguito appuntamento stasera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci a partire